Allora, se sei un fan dei Kiss e vivi nel Nord-Est, viene a tutti e cinque gli spettacoli di quella che chiamiamo Kiss Talk. Oh, cacchio, nel Nord-Est. E in momenti come questi che maledico il fatto di vivere nella Polinesia francese. Ma noi viviamo nel Nord-Est. Sono serio? E i Kiss vengono nel Nord-Est. Questo, questo significa... Oh, oh. Questo significa... No, 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 Lois, non aiutarmi. Significa che possiamo fare qualcosa. Andiamo, Peter, ci sei quasi. Possiamo andare a Kiss Talk!